buongiorno oggi sono a casa sono in calabria e ho deciso di fare un video per potervi aggiornare sulla vicenda della bavaglio alle minoranze diciamo che è stato messo dai capigruppo di maggioranza unitamente anche al presidente casellati praticamente facciamo una sintesi di quello che è successo a un certo punto siccome praticamente avevamo iniziato a fare diversi interventi in dissenso dal gruppo nelle dichiarazioni di voto quindi cosa qual è il regolamento del senato e il regolamento del senato prevede che prima vengano fatti appunto gli interventi in dichiarazione di voto dei gruppi parlamentari quelli costituiti quindi gruppi tradizionali per esempio il partito democratico forza italia fratelli d'italia eccetera eccetera e poi quindi anche il gruppo misto ora noi nel gruppo misto ci troviamo in una situazione assurda per cui noi ci ritroviamo il capogruppo del gruppo misto la senatrice de petris che insieme all'eu è entrata nella maggioranza ora cosa è successo quando siamo entrati tutti noi del movimento 5 stelle espulsi ma c'erano anche prima altri che non erano in maggioranza la parte preponderante del gruppo misto che adesso è arrivato a totalizzare 45 senatori praticamente è all'opposizione quindi noi ci ritroviamo rappresentati da un capogruppo che si trova in maggioranza e che quindi fa la dichiarazione di voto a nome dell'intero gruppo come se fossimo tutti in maggioranza questo che cosa comporta che diciamo la parte preponderante del misto non è rappresentata oltretutto che cosa succede che cosa che cosa si combina a che cosa si combina questa questa vicissitudine al fatto che lo statuto del gruppo misto che è stato presentato quando noi non eravamo chiaramente il gruppo misto ma all'inizio della legislatura prevede che il capogruppo rimanga in carica per tutta la durata della legislatura quindi la de petris è blindata in quel ruolo e per poterla sostituire occorrono i due terzi del misto che comunque non sono non riusciamo comunque a coprire insomma per farla proprio semplice per farla a breve lei rimarrà in carica per tutta la legge la legislatura rappresenterà sempre la posizione soltanto di quella porzione di misto che si trova in maggioranza e tutta l'opposizione la porzione che si trova in opposizione resta completamente non rappresentata quindi cosa ci rimaneva per poter esprimere la nostra posizione soltanto quei tre minuti di votazione in dissenso perché ciascun senatore ha la possibilità di esprimere il proprio dissenso rispetto al gruppo nella dichiarazione di voto alla fine della dichiarazione di voto di tutti gli altri gruppi per tre minuti ora siccome praticamente la situazione era che c'è questa parte preponderante del misto che effettivamente ogni volta giustamente esprime votazione in dissenso ma non ne abbiamo mai abusato ecco per il nostro gruppo l'alternativa c'è solamente un esponente del nostro gruppo appunto parlava in rappresentanza di tutti formulando la dichiarazione di voto in dissenso tutti gli altri giustamente no cioè non è che abbiamo fatto mai manovre ostruzionistiche poi magari parlava paragone in genere questi parlano insomma sono quelli che esprimono una votazione pubblica in dissenso quindi noi di alternativa c'è il gruppo di sinistra italiana che è rappresentato dalla nunez e dalla fattori e poi il gruppo di appunto all'interno del misto mi sto riferendo e poi il gruppo di paragone poi certe volte per esempio giampolillo o giarrusso insomma questi soggetti bene o male sempre gli stessi ma non più di quattro in genere e quindi i capigruppo cioè la casellati a questo punto ha deciso di modificare questa regola no rimandando alla giunta del regolamento del senato la decisione quindi ha detto va bene riuniamo la giunta del regolamento del senato per decidere la questione degli interventi in dissenso cioè quindi sono intervenuti si sono riuniti ovviamente nella nella giunta del regolamento ci sono anche due esponenti del nostro del nostro vecchio gruppo politico no e quindi tutti all'unanimità all'unanimità cioè vuol dire che anche i due esponenti del movimento 5 stelle hanno deciso di praticamente toglierci questa la possibilità di esprimere il nostro dissenso di tre minuti tre soli minuti per componente non formalizzata del gruppo misto ora questa cosa noi la riteniamo assolutamente indecente ingiustificabile non rispettosa delle minoranze poi minoranze che una volta erano maggioranze attenzione cioè la stortura di tutta questa vicenda e che noi che siamo stati espulsi dal movimento 5 stelle rappresentiamo legittimamente ci riteniamo veramente i rappresentanti di quella di quegli 11 milioni di cittadini italiani che hanno votato per il movimento 5 stelle per quel programma che poi è stato totalmente disatteso è stato totalmente derubricato perché è stato il movimento 5 stelle che ha cambiato completamente la sua posizione politica e si è infilato nella mucchiata di governo cioè se sono stati loro ad uscire dal seminato non siamo stati noi quindi noi da maggioranza siamo diventati un'esiqua minoranza all'interno di un gruppo misto dove i nostri ex colleghi insieme a tutti gli altri ci hanno tolto pure quei tre minuti pure quei tre minuti per poter fare gli interventi in dissenso e per poter dire ai cittadini che cosa si cela dietro questi maledetti provvedimenti ora noi adesso non intendiamo abbassare la guardia per un giorno abbiamo occupato l'aula del senato ci siamo passati la nottata dentro l'aula da soli quattro persone quattro senatori io il senatore crucioli la senatrice corrado e la senatrice angrisani dell'alternativa c'è siamo rimasti tutta la notte chiusi dentro barricati riuscivamo a malapena ad andare in bagno e ci siamo presi un freddo del diavolo perché chiaramente cioè le luci sparate immaginate praticamente l'emiciclo del senato con le luci a giorno tutto tutta la notte in più l'aria gelida che arrivava dai bocchettoni che veramente proprio io la sera dopo che sono tornata a casa perché dopo due giorni di veramente turnover sono tornata a casa soltanto la sera del giorno seguente quindi non mi sono nemmeno potuta lavare con rispetto parlando ma io come tutti gli altri colleghi non so io cioè veramente non riuscivo a prendere calore pensavo di avere l'influenza perché cioè è stata un'esperienza veramente incredibile e ciò nonostante questi signori praticamente non hanno ancora preso alcuna decisione in merito allora cosa è successo il prosieguo della vicenda qual è stato la mattina all'alba quando sono iniziati ad arrivare i commessi con gli addetti alle pulizie che dovevano sanificare l'aula il senatore crucioli immediatamente mattia è salito sui banchi della presidenza e occupato proprio la il seggio della della presidente casellati e io ho visto che comunque già tutti i commessi hanno piano piano iniziato ad occupare tutti gli spazi per non farci neanche accedere ai banchi della presidenza no quindi stavano lì a vigilare si sono messi quattro cinque commessi diciamo per parte per cercare di evitare che noi potessimo salire quindi ho dovuto aspettare un po' che diciamo abbassassero la guardia per infilarmi pure io quindi siamo saliti io e il senatore crucioli mentre le due colleghe sono rimaste giù e cercavano di fare un po' di foto allora quindi visto che vamo e lì siamo rimasti dalle sei di mattina più o meno fino alla mattina alle nove e mezza che apriva l'aula quindi fino alla mattina alle nove e mezza siamo rimasti fermi proprio senza nessuna volontà di scendere dai banchi della presidenza a un certo punto si sono avvicinati si è avvicinato il questore si sono insomma prima in ama scoperta poi è arrivato anche la russa che appunto doveva presiedere nella prima parte voi sapete che vicepresidente no del senato doveva presiedere la prima parte della seduta e quindi si è avvicinato la russa e quindi ha parlato con crucioli gli ha detto va bene dai la 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 casellati gli ha passato la casellati al telefono la quale appunto si è dichiarata disponibile a riceverci quindi siamo eravamo rimasti praticamente d'accordo che la russa avrebbe iniziato a presiedere la seduta avrebbe sospeso la seduta nell'emore che noi venivamo ricevuti dalla casellati quindi sostanzialmente noi in modo tale da poter trovare un accordo su questa questione degli interventi di fine seduta allora noi tranquillamente insomma a quel punto abbiamo accettato il patteggiamento quindi siamo scesi dai banchi della presidenza tenete conto che noi abbiamo rischiato una condanna penale per interruzione di servizio nel di un organo costituzionale quindi per aver bloccato quindi impedito la diciamo l'attività di un organo costituzionale quindi bloccando proprio la presidenza il senato e avremmo ci saremmo diciamo resi rei di un di un reato passibili quindi di sanzioni pesanti al che noi praticamente ci avviamo dalla casellati e per strada abbiamo incrociato pure altri colleghi del gruppo misto che in genere intervengono sempre in dissenso quindi la nuñez che rappresenta sinistra italiana quindi poi morra poi anche paragone e quindi siamo andati insieme a loro per rappresentare questa questa situazione in atto e quindi le nostre proposte le nostre richieste quindi la casellati ci riceve sembra molto disponibile incomincia con a spiegarci le motivazioni per cui così e cosa che lo e che cosa hanno deciso che cosa avevano deciso avevano deciso praticamente di che sarebbero stati capigruppo di volta in volta a decidere quanti minuti ci potevano toccare di intervento in dissenso per ogni provvedimento oppure potevano anche decidere di non da concedercene per nulla questo era era quello che la giunta del regolamento aveva deliberato all'epoca con dentro chiaramente anche i nostri ex colleghi del movimento 5 stelle la giunta all'unanimità ha deciso che noi che il nostro intervento in dissenso cioè l'intervento in dissenso delle minoranze doveva doveva essere diciamo concesso gentilmente dalle maggioranze cioè da quelli che costituiscono la mucchiata di governo in quale repubblica delle banane si è vista una porcheria simile cioè questa è diventata veramente al di sotto della repubblica delle banane cioè siamo diventati ormai il paese di pulcinella è veramente uno squallore uno squallore che fa piangere fa veramente piangere allora praticamente noi abbiamo ci siamo trovati per cui a parlare con la casellati la quale ci spiegava con molta deferenza con molta gentilezza che effettivamente noi avremmo potuto beneficiare di quei tre minuti per gentile concessione dei capigruppo per quei provvedimenti pesanti per quei provvedimenti importanti però chi decide quali provvedimenti sono importanti chi lo decide ce lo devono decidere i capigruppo di maggioranza i capigruppo dei gruppi legittimamente costituiti anche perché fratelli d'italia non ha nessun interesse a consentire a noi di intervenire in dissenso perché in qualche modo gli erodiamo il primato della dell'opposizione quindi loro che sono in opposizione finta vengono smascherati da noi che invece facciamo opposizione reale quindi sia i capigruppo di maggioranza che stanno nella mucchiata di governo sia fratelli d'italia non hanno alcun interesse a concedere a noi quei minuti ecco perché ovviamente noi abbiamo detto no ma noi pretendiamo che questi minuti non siano decisi dai capigruppo di maggioranza ma che appunto ci vengano concessi almeno per il gruppo misto quattro interventi in dissenso durante per ogni provvedimento poi se vogliamo usufruirne o meno sono fatti nostri però non ci potete appunto impedire di parlare in dissenso e non potete rimettere soprattutto la decisione ai gruppi che sono controinteressati a farci intervenire in dissenso cioè il tutto si riduce poi a 12 minuti quando noi per ore ascoltiamo i gruppi di maggioranza che tessono le lodi di tutto quello che si fa nei provvedimenti ovviamente esaltando tutto quel quel poco di buono se c'è oppure chiaramente anche manipolando i fatti per far apparire buono ciò che invece è deleterio per il paese quindi noi a noi per ore tocca ascoltare tutta quella quegli sproloqui e non possiamo praticamente nemmeno beneficiare in tutto di 12 minuti quindi questo alla fine abbiamo chiesto abbiamo chiesto che almeno venissero concessi al gruppo misto venissero riservati al gruppo misto fino a un massimo di 12 minuti per poter esprimere il nostro dissenso in quattro da suddividere per quattro interventi per ogni provvedimento sia quelli da loro ritenuti importanti sia quelli da loro non ritenuti tali perché se permettete l'importanza la deve stabilire chi deve intervenire e non chi deve giustamente difendere a tutti i costi il governo che interesse hanno loro a dare a noi un minuto in più o un minuto in meno cioè loro hanno interesse soltanto a toglierci la parola a toglierci la possibilità di esprimerci in quel consesso quindi assoluta non si è mai visto che veramente una decisione del genere fosse demandata ai capigruppo che sono contro interessati ai nostri interventi in dissenso che so che sono ovviamente a cui sono possono essere interessati soltanto i cittadini italiani che hanno votato per il movimento 5 stelle riconoscendogli quel 33 per cento di seggi che loro invece hanno utilizzato per infilarsi dentro la mucchiata per infilarsi dentro la mucchiata e diventarne complici e questa è la cosa grave e gli stessi colleghi del movimento 5 stelle stanno deliberando su questa vicenda adesso quindi noi abbiamo fatto questa richiesta dateci almeno 12 minuti 4 diciamo interventi di tre minuti ciascuno affinché noi possiamo esprimere diciamo la nostra il nostro voto in dissenso ebbene questa decisione è stata rimessa alla capigruppo perché la palla dalla casellati è stata passata alla capigruppo attraverso quella delibera di giunta dell'aggiunta del regolamento che è stata convocata apposta e l'unanimità si è espressa ebbene la capigruppo praticamente si è incartata tra virgolette perché mercoledì che sarebbe stato il giorno in cui avrebbe dovuto deliberare dopo due ore di riunione in cui si sono letteralmente scannati perché il movimento 5 stelle voleva portare il dibattito in aula sui vitalizi e invece non gliel'hanno consentito grande cosa diciamo assolutamente a questo punto diciamocela tutta totalmente inutile perché voglio dire nel momento in cui purtroppo la situazione è sfuggita di mano perché nella commissione contenziosa voi non esistete praticamente più e la situazione è stata decisa dagli altri ormai ancora andiamo a parlare di questa vicenda di vitalizi a me voglio dire mi fa piacere parlare della vicenda di vitalizi ma qua ogni giorno passano provvedimenti che distruggono pezzi di paese distruggono diritti dei cittadini vedi quello che sta succedendo sull'istruzione su cui voglio fare poi una diretta dedicata perché là veramente c'è da c'è da scrivere libri questi stanno demolendo i diritti dei cittadini ci stanno indebitando stanno facendo carne di porco e noi dobbiamo fare la discussione e cioè e voi incartate la la decisione della della capigruppo sulla questione dei vitalizi che per quanto ci possa fare schifo rispetto alla possibilità di fare intervenire noi in dissenso per esprimere tutte quelle criticità che voi non esprimete perché dovete dire sempre che va tutto bene nei provvedimenti voi bloccate la capigruppo un giorno eppure il giorno dopo e non hanno neanche deliberato né mercoledì ma nemmeno giovedì e la discussione adesso è stata rinviata martedì quindi io adesso voglio vedere e mi farebbe molto piacere se voi che mi state seguendo in questo momento andaste a rinfacciare ai nostri cari colleghi del movimento 5 stelle che al posto insieme a noi ci dovrebbero essere anche loro che noi dovremmo essere tutti insieme contro questo governo quindi che loro ci dovrebbero ringraziare per i nostri interventi in dissenso dal gruppo perché diciamo cose che loro avrebbero dovuto dire ma che non diranno mai che non diranno mai quindi noi dobbiamo ricordare ai nostri cari colleghi del movimento 5 stelle e ha detto relicheri che dovrà prendere questa decisione insieme a tutti gli altri capigruppo dobbiamo ricordare per quale motivo sono stati votati dai cittadini per quale motivo sono stati eletti e adesso se ci tolgono la parola se non ci concedono manco questi 12 minuti dopo che noi ci sciroppiamo ore e ore ore e ore di lecchinaggio squallido e vergognoso di interventi assolutamente inutili e retorici praticamente noi faremo una rivoluzione non finirà qua la nostra lotta non finirà qua noi finiremo alla corte dei diritti umani noi finiremo ovunque per denunciare lo scempio di questo di questo governo c'è un'oligarchia sostenuta da una maggioranza bulgara composta anche di traditori di gente che ha tradito il mandato elettorale perché non sono stata io a tradire il mandato elettorale sono stati loro sono stati loro che hanno buttato a mare anni di lotte e i sogni di quegli 11 milioni di italiani e mi dispiace doverlo dire veramente mi dispiace ma oggi queste persone non sono più alleate dei cittadini sono alleate del potere dell'elite economica esattamente come tutti gli altri e questo perché cosa per quattro miserabili poltrone che sono veramente miserabili perché comunque non sono funzionali a nessuno dei provvedimenti che purtroppo andranno ad incidere negativamente sulla vita dei cittadini un ministro degli esteri sì certo può gestire i rapporti con i vari paesi può aiutare a risolvere controversie internazionali tutto quello che volete però sostanzialmente sostanzialmente su quanto si sta facendo sulle riforme legate al pnrr sulla giustizia che cosa può dire un ministro dell'agricoltura che cosa può dire sulla su su quello che si sta facendo sulla scuola sui concorsi pubblici della sulla pubblica amministrazione su tutto quello che inciderà sulla nostra qualità della vita e sull'ambiente ne vogliamo parlare di quello che sta succedendo con cingolani altra presa per i fondelli la transizione ecologica proprio una truffa semantica una truffa semantica laddove noi avevamo un ministero dedicato all'ambiente cioè alla tutela di un bene comune quindi portava il nome del bene comune adesso invece abbiamo un ministero che porta il nome di un processo economico che sfrutta quel bene comune attenzione attenzione cioè questa è stata una grande truffa una grande truffa portata avanti proprio dal movimento 5 stelle da grillo purtroppo a me dispiace dire queste cose ci siamo sentiti tutti traditi traditi pugnalati a morte però adesso dobbiamo rinascere dobbiamo rinascere dobbiamo fare una grande rivoluzione ma che sia autentica sia fatta di consapevolezza non di battaglie di pancia di consapevolezza dei diritti che ci stanno negando di tutto quello che ci stanno togliendo perché il cittadino deve essere informato correttamente deve essere formato e informato formato ad un approccio consapevole alle istituzioni e alla politica cosa che ormai vogliono negare con una scuola totalmente squalificata di cui parlerò ma dovrò fare un video a parte e voglio parlare di voglio parlarne di pomeriggio nel momento in cui ci saranno tanti insegnanti che potranno seguire e mi auguro che seguiranno ma non peraltro perché se non si ribellano gli insegnanti di fronte alla rovina della scuola la distruzione della scuola che ha perso che perderà la sua funzione sociale perderà la sua connotazione costituzionale che voleva che fosse un ascensore sociale perché gli insegnanti verranno selezionati con un concorso a crocette con un concorso a crocette insegnanti che non sono non hanno mai insegnato io posso capire persone che bene o male hanno fatto un lungo corso di precariato ma non docenti che non hanno mai insegnato con un concorso a crocette vengono selezionati ma dove siamo arrivati cioè dove siamo arrivati e così vuole risolvere quel pagliaccio scusate del ministro vuole risolvere i gap formativi nelle discipline scientifiche tecnologiche ingegneristiche matematiche cioè ma veramente c'è quello che ha scritto nel pnrr cioè ma è ridicolo cioè questi stanno facendo delle truffe praticamente come come è quello che viene a fare le pulizie a casa che mette la polvere sotto il tappeto cioè capito non puliscono cioè non non solo non risolveranno i problemi del paese non risolveranno i gap formativi nelle discipline scientifiche e matematiche ma apriranno una voragine enorme enorme perché il corpo docente diventerà sempre meno qualificato e potrà sempre dare meno qualità alla scuola statale pubblica e questo comporterà necessariamente che la qualità dell'insegnamento delle discipline si abbasserà a tal punto a tal punto che i nostri studenti purtroppo una volta usciti dai nostri percorsi scolastici o dovranno fare gli operai oppure dovranno cercare di pagarsi una formazione decente al di fuori della scuola perché quello che dalla scuola non sarà più nemmeno una base minima neanche una base minima così come le pagliacciate che hanno fatto tutto tutto l'inverno volendo chiudere le scuole dando praticamente ai presidenti di delle regioni l'agio di chiudere le scuole come quando gli pareva ma anche questo l'ha fatto conte indubbiamente di che parliamo allora cioè di chiudere le scuole qua come quando gli pareva ma non solo appunto i presidenti regione ma anche i sindaci cioè vediamo che il l'ultimo sindaco il sindaco di avellino si vanta pubblicamente con la diretta facebook di aver chiuso la scuola fino alla fine della dell'anno dell'anno scolastico cioè sono stato io preservato la salute dei miei studenti cioè capito poi ovviamente diffondono fake news e quindi i genitori sono sono pure in apprezzione dicono ha fatto bene cioè loro ormai hanno capito i presidenti di regione e i sindaci hanno capito che chiudere le scuole è la cosa più facile non costa nulla porta notorietà porta notorietà porta fama porta diciamo politicamente consensi basta dire che c'è un pericolo ho capito basta dire che c'è poi che il pericolo non sia quantificato che non sia circostanziato in nessun modo praticamente loro chiudono la scuola e si sono fatti pure elettorato senza fare nulla cioè devastando chiaramente quello che è un presidio cioè compromettendo quello che è un presidio dello stato e la funzione di un presidio dello stato un diritto dovere all'istruzione dei nostri studenti cioè io voglio dire è di fronte a tutto questo il ministro è l'unico che si può opporre con delle impugnative io ho presentato pure delle interrogazioni su questo ma mai un ministro si è messo a impugnare questi provvedimenti strampalati delle regioni e dei sindaci quelli proprio assurdi dico quantomeno no regione gialla scuola chiusa scuole di tutti di tutti gli ordini ai gradi chiuse cioè queste sono state le soluzioni che hanno dato i presidenti di regione quando giustamente gli è stato chiesto di collaborare lealmente con lo stato per poter fare funzionare le scuole questo hanno fatto hanno preso hanno chiuso al massimo hanno disposto la scuola alla cart che praticamente non potevano disporre loro perché quella era una misura che casomai doveva assumere il ministro ma non certo i presidenti regioni guardate semmai sono state impugnate queste ordinanze mai mai nonostante emiliano è quell'altro soggettone di de luca praticamente le hanno messe ma anche spir lì in calabria le hanno messe in pratica e facendo impazzire letteralmente le scuole perché giustamente quelle che non avevano la possibilità di fare questo lavoro in presenza e a distanza in simultanea sono rimaste praticamente a dover dire all'utenza quindi ai genitori guardate noi questa cosa non possiamo farla e si sono beccati pure chiaramente le lamentele le proteste dei genitori che si sentivano il diritto di richiedere qualcosa che il loro presidente di regione gli aveva detto che era un diritto di cui loro potevano soffruire che era un loro diritto pretenderlo cose assurde e non smentiti dal ministro perché i ministri non li hanno smentiti perché i ministri avrebbero dovuto impugnare immediatamente l'ordinanza quindi allora qua ci troviamo di fronte a una classe politica indecente e non salvo nessuno non salvo nessuno è veramente una classe politica complessivamente indecente e casomai la cosa grave è proprio che è proprio questa c'è pure anche se dovesse cadere questo governo buttando fuori dal parlamento tutti tutti dal parlamento e chiaramente dai posti apicali del governo tutti questi soggetti da chi verrebbero sostituiti cioè il vero problema è anche questo cioè noi dovremmo fare adesso uno sforzo immane di rinnovamento proprio per non votare mai e poi mai gente che ha partecipato a questo scempio sia negli enti locali sia praticamente nei ruoli istituzionali fino ad oggi perché veramente la situazione è talmente grave e nessuno non solo nessuno si ribella ma tutti sono disponibili ad essere complici non a cercare di ribaltare la situazione per cercare di fare il bene l'interesse collettivo il bene dei cittadini ora per tornare alla situazione iniziale quindi che cosa ci tocca fare noi aspetteremo fino a martedì quello che sarà quella che sarà la decisione della capigruppo se la capigruppo però non ci dovesse riconoscere in modo definitivo i quattro interventi al gruppo ho messo i quattro interventi di tre minuti ciascuno in dissenso dal gruppo allora noi riprenderemo forte la nostra azione di protesta e vi chiameremo a darci una mano un sostegno concreto perché noi crediamo forse poco modestamente però crediamo nel nostro piccolo perché a noi sarebbe molto di più convenuto rimanere dentro la mucchiata perché nella mucchiata se noi avessimo puntato a una nostra carriera politica a noi sarebbe convenuto rimanere nella mucchiata come se stanno rimanendo quelli dei cinque stelle zitti muti e buoni ci sta bene tutto dateci quello che che posso che potete insomma ci sta bene tutto ci sta bene e che insomma alla fine la forza maggiore di governo sia rappresentata praticamente con da un ministro del degli affari esteri da un ministro dell'agricoltura politiche giovanili che in genere praticamente era l'ancella delle delle dello sport del ministero dello sport che infatti non è stato costituito ma c'è solo un sottosegretariato dato alla vezzali e poi appunto il ministro dei rapporti col parlamento quattro ministeri che contano zero o quasi praticamente i fini di tutto quello che si sta realizzando per il paese adesso vedremo il crollo dei meccanismi di controllo appunto nella pubblica amministrazione per poter portare avanti le opere legate al pnr vedremo una deregulation in tutti i contesti che veramente esporrà a questo paese a grosse a gravi conseguenze anche perché il nostro come sapete è un paese ad alto rischio mafioso ad alto rischio di criminalità dove i colletti bianchi sono sempre più impuniti sempre lo saranno perché vengono pure premiati quando fanno le porcherie vengono pure premiati purtroppo cioè all'interno della pubblica amministrazione i dirigenti sono praticamente inamovibili inamovibili vi posso soltanto citare l'esempio dell'atp di cosenza il direttore dell'atp di cosenza il dirigente dell'atp di cosenza che diciamo è stato sanzionato più volte dal ministero dell'istruzione per una serie di disservizi che ha provocato gestendo male diciamo soprattutto gli organici e la costituzione degli organici determinato determinando problemi nell'apertura dell'anno scolastico facendo slittare quindi gli incarichi e quant'altro eppure questo è stato promosso dopo due sanzioni disciplinari e mandato all'ufficio centrale a Catanzaro dopo tanto lavoro voglio dire dopo tanti riscontri negativi invece di essere la butto lì licenziato demanzionato no è stato promosso e così va così va e non hanno vergogna non hanno vergogna quindi quello che vi voglio dire veramente con tutta l'anima noi ci mettiamo proprio il cuore e la vita perché alla fine non ci interessa nulla non ci interessa una carriera politica non è questo che ci interessa a noi ci interessa non lasciare il paese in balia di questa gente ve lo dico proprio con l'anima perché poi in questo paese ci viviamo tutti ci viviamo noi che riprenderemo a fare magari il nostro lavoro alla fine di questa di questa esperienza e tutti voi cittadini noi siamo come voi siamo tutti un popolo siamo persone che purtroppo da questo ruolo abbiamo avuto la disavventura di assistere a tutte queste porcate e adesso le denunciamo tutte 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 non ce ne sfuggirà una e per questo io vi chiedo veramente con il cuore dateci una mano nel momento in cui nella prossima settimana innanzitutto io vi chiedo veramente di battere i pugni facendo pressione su tutti i capigruppo del senato affinché praticamente si deliberi nella prossima settimana il riconoscimento permanente di questi 12 minuti quindi quattro interventi di tre minuti al gruppo misto in distenso dal gruppo allora i capigruppo sono la la de petris per il gruppo misto la la malpezzi per il partito democratico faraone per italia viva licheri per il movimento 5 stelle la praticamente licheri per il movimento 5 stelle romeo per la lega cioè almeno siccome i capigruppo di maggioranza saranno quelli che alla fine delibereranno perché il solo voto di fratelli d'italia non conta nulla ma comunque anche loro sono contro di noi perché se la delibera in giunta è stata è stata realizzata all'unanimità per toglierci questi questi minuti oppure per metterli a discrezione dei capigruppo allora se permettete sono tutti una pasta cioè le minoranze praticamente devono sparire che poi queste minoranze tenete conto che non la maggioranza del paese ci rappresentano la maggioranza del paese perché io non credo proprio che il crollo dei consensi che ha avuto il movimento 5 stelle sia legato al fatto che è crollato quel progetto politico purtroppo è crollato il progetto cioè il non il programma del movimento 5 stelle è crollato purtroppo il movimento 5 stelle in sé quindi è fallito il progetto politico nella sua nel fatto che appunto il movimento poi si è inserito nel sistema delle partiti coitaliano ed è dire si è mescolato è diventato uno uno di loro ma sostanzialmente tutte quelle cose che i cittadini volevano che fossero realizzate per cui hanno votato all'interno della quella hanno votato nel 2018 tutte quelle secondo me sono ancora vive e attive sono tutte le cose che noi tutti desideriamo che si realizzino per questo paese erano le soluzioni ideali le soluzioni che il popolo voleva ai propri problemi e che sono state praticamente cancellate e derubricate dall'implosione di un progetto politico che purtroppo è dovuta ad ambizioni personali di pochi soggetti parliamoci chiaramente pochi soggetti che le cui ambizioni sono prevalse sulla sull'interesse di tutti hanno hanno in qualche modo disfatto tutto quello che si era costruito in anni e anni di lavoro di di proteste di raccolta di consensi basati proprio su quello che su quello che era una come dire quelli che erano i desiderata dei cittadini anche perché a questo sistema l'alternativa c'è ed è il buon governo del paese semplicemente questo perché questo non è un buon governo cioè questi non sono i migliori di nessuno questi sono i migliori i migliori servi dei poteri forti questo senza altro ma non sono certo a servizio della collettività e dei cittadini italiani quindi io adesso vi saluto e più avanti farò un video sulla vicenda della scuola che merita di essere trattata a parte e che praticamente sulla quale intendo soffermarmi con molta attenzione anche perché sulla sulla questione della scuola bisogna fare una riflessione molto molto attenta e molto profonda bisogna recuperare determinati valori che sono valori che sono legati proprio alla alla funzione costituzionale della scuola pubblica quindi lasciamo perdere le questioni di categoria le vertenze sindacali le questioni di categoria che hanno affossato hanno affossato la scuola statale questa è la verità hanno affossato e hanno contribuito hanno dato a questi soggetti che oggi ci governano la scusa per mettere in atto tutte queste deforme che hanno distrutto la scuola cioè loro hanno detto siccome la scuola è dominata da una serie di interessi di parte che la rendono ingovernabile come sistema allora a questo punto facciamo altro facciamo altro e quindi disfacciamo tutto quello la funzione proprio della scuola la distruggiamo totalmente perché a quel punto se le logiche sono queste allora noi invece di metterci contro quelle logiche le assecondiamo così quella quella scuola si distrugge si cancella e andrà avanti un altro tipo di sistema un sistema integrato pubblico privato come c'è nella sanità ed è da mo che lo ripetono cioè io ho una visione purtroppo privilegiata ma non la vorrei avere perché non vorrei aver visto e sentito tutto quello che ho visto e sentito purtroppo nella commissione parlamentare dove tutte le audizioni tutti gli interventi dei dei senatori di tutte le forze politiche tutti favorevoli alle scuole paritarie al cioè veramente lo scempio lo scempio quindi io quello che vi chiedo è veramente pensiamo al buon governo del paese perché quello quella è la cosa che interessa a tutti noi cittadini pensiamo a tenere la barra dritta e soprattutto a iniziare a pensare a manifestazioni di protesta corali e serie per mettere diciamo in campo una opposizione diciamo strutturata e anche e anche diciamo in rete su tutti i territori ben come dire ben diffusa su tutto il territorio italiano noi come alternativa c'è ci stiamo lavorando e poi avremo bisogno chiaramente faremo un appello pubblico avremo bisogno della collaborazione di tutti perché da soli non andiamo da nessuna parte cioè dobbiamo avere il sostegno del paese che purtroppo non può essere un sostegno passivo non può essere un sostegno da leoni di tastiera qua ci vuole un sostegno reale e concreto di gente che veramente si vuole rimboccare le maniche e incominciare a rendersi conto che solo pensare al proprio orticello purtroppo comporterà lo sfascio di questa di questa società e fa il gioco di chi ci sta oggi dominando dell'oligarchia che ci sta dominando non dobbiamo cascare in questa trappola e quindi teniamoci pronti ad una manifestazione corale di protesta vi terremo informati e aggiornati su quello che avverrà martedì prossimo in merito agli interventi in dissenso dal gruppo quindi io vi chiedo di intervenire presso i capigruppo di maggioranza quantomeno affinché deliberino a nostro favore è questa questa formula che valga almeno per tutti i provvedimenti cioè quattro interventi in dissenso dal gruppo solo riservati al gruppo misto che sono in tutto 12 minuti di tre minuti ciascuno vi ringrazio e a presto ciao